Ben ritrovati a tutti, amiche e amici. Un saluto all'assessore regionale Loredana Capone, che come tutti i rappresentanti istituzionali che sono venuti qui in questa piazza, testimoniano vicinanza, affetto a Galatone, alla nostra campagna elettorale, alla nostra coalizione. Grazie. Quando ci candidiamo a governare una città dobbiamo tessere i rapporti istituzionali. Ecco perché la presenza dei rappresentanti istituzionali è questa sera di Loredana. E allora ci ritroviamo ancora una volta in piazza, tra la gente, con il sorriso, con la nostra passione, con il nostro entusiasmo, con la nostra voglia di fare. Non siamo urlatori, come vuole definirci qualcuno. Diciamo solo la verità in piazza. Lo abbiamo fatto in questi anni di opposizione. Sempre, puntualmente, siamo venuti noi in piazza. E lo stiamo facendo da mesi, raccontando quello che faremo quando governeremo questa città, attuando il nostro programma, programma partecipato, condiviso, che in ogni occasione pubblica abbiamo illustrato. Altro che non parliamo di programmi. Allora, riascoltate, informatevi, seguiteci. Noi siamo trasparenti. La nostra campagna elettorale è trasparente ed è impostata sulla semplicità e sulla chiarezza. Sulla semplicità degli amici che ci hanno offerto gratuitamente le sedi e le vetrine per i nostri manifesti e per i nostri comitati. Gratuitamente. Grazie a tutti loro. Ho nominato un committente responsabile e ho aperto un conto corrente, come previsto per legge per i comuni al voto. Quindi è tutto documentato, tutto scritto, tutto alla luce del sole. La nostra campagna elettorale, bella e partecipata, si svolge grazie alle nostre risorse e di chi spontaneamente ha deciso di contribuire. I nostri avversari stanno sicuramente avvertendo che l'aria sta cambiando e si appigliano a tutto. Dicono che urliamo, dicono che offendiamo, dicono che non abbiamo programmi. Sanno che tutto ciò non è per nulla veritiero, ma si accontentano di fornire ai propri amici questa versione dei fatti per maschierare la loro paura. La paura di non farcela, perché sia chiaro, non ce la farete. La paura di dover andare via, perché è certo che andrete via. Dicono di noi, dicono di noi, in piazza, sui social, cari amici della collezione, che ci definiscono millantatori, classe di innovatori dell'odio, maestri e legislatori. E' evidente che chi scrive tutto ciò mastica poco e male il lessico, perché nella foga di offendere si lascia scappare insieme insulti e complimenti. A meno che per loro maestri e legislatori sono insulti pure essi, ci fa piacere che ci considerano maestri e legislatori. Ed ancora, alcuni ragazzini si sono fatti prendere dal sacro fuoco dell'appartenenza nisiana. E' come se avessero ricevuto un vero e proprio corso di marketing aziendale. Si lasciano andare ad affermazioni che sicuramente, ma di questo loro non si rendono conto, danneggerà il loro stesso candidato. Ce n'è uno in particolare che dopo aver peregrinato di qua e di là, a sinistra, a destra, al centro, tenta adesso di accasarsi con colui che ritiene il vincente di questo giro. Perderai anche questa volta amico, ti accorgerai che ti hanno preso in giro, che ti hanno fatto promesse che non potranno mantenere. E il risveglio da questa brutta avventura sarà molto doloroso. Mi dispiace amico, mi dispiace per te sinceramente. C'è pure chi pur aver frequentato, ma soprattutto usato, per anni i salotti del centro-sinistra, oggi dimostra insofferenza per certi comportamenti. Che noi perlomeno, noi cara Loredana, abbiamo il buon gusto di tenere in pubblico, assumendocene tutte le responsabilità. Parlano di politica di basso livello. Il suo livello in politica è stato sempre talmente alto quando a un certo punto ha sentito il bisogno di frequentare il salotto del centro-destra. E vorresti dare lezioni a me, a noi di Corenza. Loredana penso che mi conosce bene e sa che Flavio Filoni è sempre stato dalla stessa parte, ma con la gente di questa città. E basta dire, no vabbè ma c'è a fare l'uragnone, cara ministra. Noi siamo stanchi di queste battute. Se non ci volete votare, non votateci, ma non date queste risposte. Noi abbiamo le competenze e le professionalità che abbiamo amministrato in questi anni. La dobbiamo finire di queste battute, di poco conto. Noi siamo l'unica coalizione che ha i rapporti istituzionali con regione e governo, che può far decollare questa città. Altro che viene l'euro parlamentare da maglie, cara Loredana, per prometterci fondi europei. Ma dove sono stati questi fondi? E allora, continuiamo a dire che la morale può farla solo chi ha addirittura morale. Le lotte politiche si fanno a viso aperto, si fanno nelle sedi opportune, si fanno proponendo, dialogando, discutendo, votando. E quando si vota, si vince o si perde. Chi perde accetta in democrazia la maggioranza. Non si pugnala alle spalle. Soprattutto non si fa il superuomo o la prima donna, a seconda dei casi. Quando le capacità per fare l'una o l'altra cosa non ci sono. La politica non si fa per tornaconto personale. Non l'ho fatto mai in questi 15 anni di militanza politica. Ci ho rimesso tempo. Ma l'ho fatto perché ho a cuore questo Paese. Ci faccia il piacere, come diceva Totò. La politica è servizio, è condivisione, è confronto. La politica per noi è gioia. Per questo diciamo basta a questa stagione amministrativa. Che riteniamo sbagliato per tutta una serie di motivi. È necessario un cambiamento radicale. Un cambiamento che dia respiro a questa città sfittica. Senza anima, senza identità. Basta con la città di Livionisi. La città deve tornare alla gente. Ai cittadini, agli elettori. Domenica sera sapremo se i cittadini avranno deciso di cambiare. Noi ci stiamo impegnando per questo. Vogliamo una galatone che possa far vivere la gente in sicurezza. La sicurezza di vivere tranquilli in casa propria e nella propria città. Va rafforzato il sistema di risorveglianza. E presi accordi di tipo istituzionali per un eventuale rafforzamento delle forze dell'ordine. Va aumentata la sicurezza stradale. Basta circolare contro mano. E questo vale soprattutto per le bici, ciclomatori. Che costituiscono seri pericoli per l'incolumità personale. Basta le soste selvagge sugli incroci e sulle piste ciclabili. Basta passare con rosse semafori. Non è una voglia di repressione, ma è una voglia di legalità e un'attenzione. Di troppa legalità non è mai morto nessuno. C'è bisogno poi di un piano traffico degno di questo nome e attento alle esigenze dei residenti e dei commercianti. E basta strisce blu. L'abbiamo detto dall'inizio. Basta multe a causa di esse. Un paese, un paese civile, quando i suoi cittadini sono rispettosi delle regole. E le regole vanno rispettate e vengono rispettate facilmente quando sono giuste, ma solo quando sono uguali per tutti. Vogliamo una Galatone sicura dal punto di vista ambientale. Abbiamo avuto negli anni, nella nostra provincia, nel nostro Salento, lì dal Sider, poi l'Ilva, Montedison, Fedelcementi, Colacem, Brindisi Nord e Brindisi Sud, Cerano, Castellino, Lamianto. E pare che non sia ancora finito. Cosa si vuole appioppare ancora a questo territorio? Cosa vogliono fare al nostro territorio di Galatone? Non mi bastano i tumori già accertati. E che nessuno dica dei miei avversari che stiamo facendo allermismo. Solo chi ha già affrontato i lunghi, penosi e costosi viaggi della speranza sa veramente di cosa stiamo parlando. Se avessimo istituito come amministrazione un registro tumori nel territorio avremmo sicuramente i dati più precisi. E le falde? Sono sicure le falde? Perché non possiamo vivere in un posto sano? Quali interessi impediscono tutto ciò? Noi non abbiamo interessi. Noi non abbiamo interessi. A voce grande ve lo chiedo. Quando qualcuno li viene per caso in testa di crociare con la matita sul nome di Livio Nisi. Là ci sono interessi. Con Giovanni Dungo. Con Giuseppe Bondi. Di questo stiamo parlando. Di questo stiamo parlando. Ti sfido a dirmi quali sono i miei interessi, caro Livio Nisi. E allora noi vogliamo tutelare la salute della gente. Chiediamo troppo. No, chiediamo quello che è costituzionalmente garantito a tutto. La salute è prima di tutto. Sanitate. Era un'antica forma di saluto dei nostri progenitori che racchiude uno scrigno di significati. Sanità. Buona salute. Questa è la via che ci anima ad amministrare la nostra città. Vivere un diritto. Vivere sani altrettanto. Ecco perché diciamo basta alle opere impattanti a livello ambientale. Ecco perché inseriamo la moratoria per almeno dieci anni sul territorio comunale per le opere a grande impatto ambientale. Tutelare la salute dei cittadini è preciso dovere di chi amministra. Investire in salute è un nostro preciso impegno. Ecco perché occorre monitorare continuamente aria, acqua, suolo e sottosolo. Ecco perché occorre eliminare l'amianto che ancora esiste nelle nostre abitazioni, possibilmente senza costi per il cittadino. Ecco perché bisogna impedire la formazione degli scarichi a cielo aperto e l'abbandono indiscriminato dei rifiuti. La salute può e deve essere insegnata ai nostri figli, ai nostri nipoti, collaborazioni con scuole e aziende per formare e informare. E per far sì che le nuove generazioni abbiano amore e cure per il territorio. Per far sì che la differenziata una volta per tutte possa produrre benefici a questa comunità anche di tipo ambientale. E' giusto. Dobbiamo, cari amici della coalizione, restituire un po' di verde in questa città. Un verde che è stato deturpato in questi giorni da questa amministrazione che sta facendo delle opere pubbliche per dire che ha fatto qualcosa. Un'amministrazione che non conosce, caro Maurizio, nemmeno la geografia della città, che non sa che i abitanti di Contra D'Aparo sono di Contra D'Aparo, non del Pollaglio. E allora un paese lo si ama di più quando si contribuisce giorno dopo giorno a renderlo sano e vivibile. Un paese sano, un paese bello, un paese sicuro, un paese che si riappropria delle sue identità e della sua storia. E' il paese che vogliamo costruire nel prossimo futuro. E noi abbiamo parlato di programmi, sempre in questi giorni, sui social ci sono le nostre idee, i nostri progetti che sono le attenzioni, sono i punti che saranno determinanti nella nostra azione di governo. E parliamo di centro storico. Il centro storico deve diventare l'attrattore di iniziative pubbliche e private, che in partnership con l'ente locale, ma anche con attori principali come la regione Puglia, vogliano e possano rilanciarli. Fallo veramente vivere, non sporadicamente, ma tutti i giorni dell'anno. Le bellezze storiche, architettoniche, come diceva Francesco Danieli l'altra sera, giustamente inserite in una programmazione turistica, daranno la possibilità di avere un turismo che sappia coniugare borgo, mare, architetture e gastronomie. Altro che qualcuno mi dice a che serve che far venire rappresentanti istituzionali in questa piazza. Ci hanno anche attaccato che è venuto il sindaco di Gallipoli, cara Loredana. Non sanno che governare una città di questi tempi significa che dobbiamo fare rete con le realtà. questo e che loro non ce l'hanno questa opportunità. E allora sarà un ruolo importante quella della nostra amministrazione, che deve proprio guidare, incentivare, attueremo una riduzione per un periodo di tempo di 3-5 anni dei tributi comunali per le nuove attività che vorranno sottoscrivere un apposito protocollo con l'ente locale. Abbiamo fatto tanto per il turismo, diceva qualcuno l'altra sera su questo palco. Dicono loro, non avete fatto nulla per mettere in rete i BNB, non avete creato un collegamento con le marine, non avete fatto rete con i comuni limitofi per garantire un servizio essenziale a chi viene a pernottare nei nostri BNB e non ha la possibilità di andare a mare. E poi non dicono neanche, cara Loredana, che non sono stati capaci di avere la fermata nemmeno di Salento in bus, un servizio promosso dalla provincia di Lecce dove il consigliere Giovanni Tundo, quello che si candida per tutelarsi la sua poltrona. Non ve li dice il consigliere Tundo, che fa parte della maggioranza, neanche una fermata, non li interessa. Razionalizzare, ottimizzare gli sprechi, anche degli edifici è un'esigenza, una virtù che si richiede a tutti i buoni amministratori. L'ho sempre detto in consiglio comunale a qualcuno che dice che non siamo stati opposizione, che vada a riguardarsi i nostri interventi, le delibere, tutto è vedere dove siamo stati, non sappiamo loro dove sono stati. E allora parliamo di strutture, parliamo di scuola, parliamo del professionale di via corsieri. Volendo oggi fare una considerazione occorre far emergere la destinazione dichiarata a quella semidichiarata da parte dell'attuale amministrazione per un trasferimento di uffici comunali nell'imbovile in questione. Bene, fosse così, nei fatti saremmo tutti contenti. Sembra invece che ci siano state già numerose promesse, già hanno dato qualche locale, promesse di locazioni ed associazioni varie, senza nessuna finalità utile alla cittadinanza. Ma come si può? Come si può? Questo intervento della provincia e dell'amministrazione in carica è stato però inutile, fuori luogo e contotto con metodi certamente non definibili di buona amministrazione. La motivazione sta semplicemente non aver tenuto in considerazione il valore della stessa sede storica, l'Istituto del Professionale di Galatone intitolato Cosimo VII, che ha una valenza storica, cara Loredana, per questa città, che ha un significato profondo di formazione per tante menti di questa città. Allora, la richiesta della parte della provincia di unificare in unica sede gli indirizzi dell'Istituto Medi è legittima e auspicabile per l'immagine e l'organizzazione dello stesso istituto scolastico, ma ciò può essere compiuto solo in un prossimo futuro, con la realizzazione presso la sede centrale di ulteriori aule per un'opportuna e ottimale gestione dello spazio scuola. La realtà della situazione è che la sede centrale ad oggi non ha gli spazi sufficienti per poter accogliere in modo opportuno e efficace e secondo norme di sicurezza altre classi. Ciò non garantirebbe evidentemente uno svolgimento efficace delle elezioni. Altro che sopprimere la sede del professionale, occorre ovulatezza, occorre lungimiranza. L'abbiamo detto, non servono tanto dislocazione di uffici comunali. Noi se governeremo vogliamo semplificare, vogliamo che per una pratica il cittadino si reghi in uno, massimo due strutture. Questo ci impegneremo a fare. E veniamo al voto e concludo perché il tempo è tiranno e dobbiamo dare spazio a Maurizio ma anche a Loredana. E veniamo al voto. Le modalità di voto sono abbastanza chiare. Noi le abbiamo spiegate sempre. C'è qualcuno però che va in giro con la pretesa di imbrogliare e gli elettori. Una signora in particolare stamattina quando abbiamo contattato i cittadini nel consueto giro del porta a porta, porta a porta che ho fatto personalmente, casa per casa. Non ho mandato i miei candidati al Consiglio. Non mi vergogno di suonare alle case io delle persone, che lo faccia anche lui e io ritornerò quando sarò sindaco di questa città a incontrarvi nelle spiazze, nelle vie. Vergognati caro sindaco che mandi la coppia più bella del mondo, l'assessore Roseto e compagnia. E allora questa signora stamattina da Loredana mi dice figlio mia teni un nipote ma candidato con lo sindaco e perciò la giù votare. Ma lo sindaco però non mi piace, non mi piace gli vienissi. Ho detto che se ho più voto un nipote ma giù votare pure il tuo. Ho detto no signora, ho ribattuto con Garbo, c'è la monedalità del voto disgiunto. Tu vota tranquillamente tuo nipote ma il sindaco lo puoi scegliere anche in una coalizione diversa e ad esempio puoi votare tuo nipote e come candidato sindaco il sottoscritto che è l'unica speranza di cambiamento di questa città. Allora signora Itunacce e Bruglioni, perché stanno facendo? Stanno mandando pure messaggi cara Loredana, c'è dove siamo arrivati? C'è dove siamo arrivati? Io non rispondo a nessuna provocazione su Facebook. Dove siamo arrivati? Che il sindaco Nisi manda i messaggi con Whatsapp ai suoi attivisti per aumentare la pagina Facebook dei mi piace. Dice Filoni a più mi piace. Ho l'assessore Campa che manda i messaggi vocali, che dice mobilitiamoci che forse fanno il voto disgiunto. Ma di ci sto parlando? E allora l'elettore deve essere informato, correttamente informato, non preso in giro. Chi fa queste cose non è degno di promossi e di amministrare la città. Votiamo la gente seria, votiamo la gente responsabile, votiamo la gente capace e competente. Cara Loredana, 96 persone, uomini e donne, giovani e nonno che riempiono le liste, che non ho chiesto devi candidarti perché gli devo dare una cosa, ma perché c'è l'entusiasmo di fare questa parola elettorale? Qui c'è un voto libero, non date retta al voto di scambio, alle 50 euro restituitele! Votiamo Flavio Fironi, le liste della coalizione, votiamo la meglio gioventù, votiamo cambiamenti, insieme per Galatone, l'unione di centro, Galatone protagonista e il partito democratico. Per una Galatone migliore, la Galatone di tutti, la nostra Galatone, votiamo Flavio Filoni, sindaco. Andiamo a vincere con il sorriso! Buonasera a tutti. Oggi non possiamo riprendere da dove ci eravamo lasciati, perché è scappata qualche panolaccia la volta scorsa, è meglio lasciare stare. Mi sono portato pure io un compitino perché poi qua ci abbiamo e vorrei veramente leggervi alcune frasi che mi hanno e ve le leggo subito. Nisi ci ha regalato un anno di illusioni con tante feste e tante cene e senza alcuna sostanza. Il sindaco ha due soli obiettivi, fare feste e fare cassa ed infatti ha notificato la richiesta di adeguamento degli oneri di urbanizzazione, vi ricordate qualche anno fa è arrivato l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione, è arrivato a chi aveva presentato una vecchia richiesta di permesso di costruire. Continuo testualmente sulla centrale a Biogas ci ha presi in giro e la responsabilità non è di Miceli ma di Nisi. A questo punto dovrebbe seguire un applauso perché sembrano parole mie. Vi sbagliate, l'applauso lo dovete fare al consigliere provinciale Giovanni Tundo, era il comizio del 13 giugno del 2013 di cui Giovanni Tundo si esprimeva in questa maniera. Ora va bene, non devi venire qui a spiegarci perché hai fatto questa santa alleanza, dovresti quantomeno avere la decenza di dire se la pensi ancora in questa maniera. Io ritengo che il consigliere Tundo sia una persona intelligente e che la pensi ancora in questa maniera riguardo al sindaco Nisi. State attenti, pensa ancora che il sindaco Nisi ci ha presi in giro, però l'alleanza l'ha fatta, era rimasto l'ultimo treno per poter conservare la poltrona di consigliere provinciale, ce l'ha detto in questa piazza ed ha preso quest'ultimo treno. Quindi pensate che fortuna, con un colpo ce ne facciamo fuori due. Però io dico, la mia preoccupazione nel poco tempo che abbiamo a disposizione non possiamo fare grandi discorsi, la mia preoccupazione e la preoccupazione anche di tanti altri amici è la disgregazione sociale, cerco di parlare con molta pagatezza da questo punto di vista, la disgregazione sociale che si è venuta a creare in questo paese. Se voi notate il sindaco Nisi con la sua politica ha creato una spaccatura verticale e guardate che distruggere il tessuto sociale di una comunità è un crimine gravissimo, gravissimo! Non ci è venuta a spiegare, almeno perché quegli uomini e quelle donne che stavano dalla sua parte. Noi abbiamo ascoltato prima Giovanni Alemanno, io non ho la stessa postura del ventennio né abbaio, io parlo, voglio dire, Giovanni, con molto garbo te lo dico, non ci ha spiegato perché Giovanni Alemanno ad un certo punto l'ha abbandonato ed è andato via, non ci ha spiegato perché poi a quel ragazzo gli hanno pure tolto il simbolo di Forza Italia ad un certo punto perché è questa, le manovre politiche che sanno fare. Non ci ha spiegato perché il vice sindaco, cioè stiamo parlando di una figura che è l'alter ego del sindaco a un mese dalla campagna elettorale, dopo aver partecipato a tutta l'amministrazione, presenta le sue dimissioni e si presenta Claudio Botrugno, candidato sindaco con delle liste differenti. Poi Botrugno ce l'ha spiegato, gli è scappato nell'incontro pubblico di dire che non poteva rimanere in quel ruolo e in quella coalizione perché aveva un sindaco accentratore, perché non c'era spazio per nessuno, quindi qualche spiegazione ce l'hanno data, dall'altra parte abbiamo Miceli che si ripresenta, quindi questa frammentazione è il frutto della politica che ha avuto in questi 5 anni Livio Nisi e dove lo si vede? Su alcune tematiche noi abbiamo un blocco, io l'ho chiamato blocco democratico, delle tematiche su cui tutti quanti sono contro il candidato sindaco Nisi, abbiamo le tematiche ambientali e di governo del territorio, io ho sentito da questo palco prima il candidato Alemanno, ho sentito negli altri giorni gli altri candidati a sindaco, tutti quanti per quanto riguarda la problematica della centrale biogas e della discarica di Amianto sono contro le politiche di governo del territorio che ha avuto Nisi e allora questa spaccatura oggi bisogna ricucirla, io dico che la cosa migliore sarebbe stata ma nell'ambito di un discorso veramente pacato ed educato, venire qua davanti a voi e chiedere scusa, chiedere scusa di averci fatto questo regalo, perché sarebbe la cosa migliore, ti sono scappati i buoi dal recinto, l'hai detto anche nelle conferenze stampa, l'ha detto anche il Presidente della provincia Cabellone quando c'era la famosa nave carica di Amianto che stava attraccando al porto di Gallipoli e che fortunatamente è stato scongiurato anche quest'ulteriore attentato, però non hai avuto il coraggio politico di venire qui a dire ho sbagliato, non sono stato capace a muovere un dito per difendere la nostra terra e guardate vi dico una cosa, sulla centrale a biogas è intervenuta la magistratura che non è una bella cosa, in una democrazia compiuta devono essere i cittadini, quel Consiglio Comunale l'Aperto lo doveva convocare Nisi ben prima di dare ogni approvazione sulla centrale a biogas, l'intervento della magistratura che con un sequestro ha bloccato la centrale a biogas, purtroppo la magistratura non è ancora intervenuta sulla discarica di Amianto, noi ci siamo presi le nostre responsabilità insieme a tutti quanti gli altri cittadini del Comitato Permanente di cui Giuseppe Resta è il rappresentante per presentare una denuncia alla Procura della Repubblica perché non si può leggere una relazione dell'impresa proponente in cui si attesta che entro un chilometro di raggio dalla discarica di Amianto non ci sono insediamenti abitativi, tutti noi passiamo dalla contrata Castellino e abbiamo le case che stanno a fianco alla discarica di Amianto, che non ci sono condotte idriche principali e abbiamo lì una condotta della QP che ci passa proprio a fianco, noi abbiamo presentato questa denuncia, la magistratura è lenta, i tribunali sono lenti, la giustizia in questo paese forse è lento, la politica non ha funzionato e questo sindaco non ha difeso questa terra e allora se come massimo autorità sanitaria ogni tanto doveva farsi qualche passeggiata, guarda, doveva farsi qualche passeggiata presso la discarica di Amianto, lui non lo ha fatto, lo abbiamo fatto noi, ci sono altri che lo fanno per lui, vai a vedere l'Amianto sparso all'interno della discarica, vai a vedere che tutti i teli di copertura sono tutti saltati e questo è il pericolo che corriamo, altro che allarme e forse non verrò a trovarti soltanto io, forse verrà a trovarti anche qualcun altro quanto prima, perché queste cose poi prima o poi vengono a galla, io dico una cosa e con questo il secondo concetto non voglio rubare tempo a Loredana, nell'amministrare un paese ci vuole responsabilità, responsabilità è il contraltare di una maggioranza di governo e di un governo, quando un governo finisce viene qui e ci dice quello che ha fatto, responsabilità vuol dire anche che laddove si ha timore, nel caso per esempio della centrale Biocassi in cui non è intervenuto perché diceva che temeva azioni di risarcimento del danno, si mette in prima linea la salute dei cittadini, non il timore e questa è la responsabilità, responsabilità vuol dire che vieni qui e ci dici, io c'ho qui, ma mi sono portato le carte come si fanno qui, c'ho qui il programma del candidato Onisi del 2012, doveva venire lui a dirvi guardate questo è il mio programma, un programma corposo, anche molto bello nelle sue cose, elencare tutto ciò che ci aveva promesso e dopodiché dirci di tutte queste cose che cosa aveva realizzato, io vi faccio soltanto un breve passaggio e dopodiché lascio a voi tutte quante le determinazioni, addirittura si dice espressamente, lo si scrive in maiuscolo, andate a guardarvelo, tanto è pubblicato sul sito del Comune, per quanto riguarda la zona costiera, realizzazione di un collegamento viario dal villaggio Santa Rita al mare, l'intervento tramite una navetta elettrica, tramite piste ciclabili e pedonali, ora a parte che non è stato fatto, ma non è venuto a spiegare ai cittadini perché ha rinunciato financo al finanziamento che era stato concesso per fare i sentieri sulla montagna spaccata e qui potremmo continuare veramente all'infinito, perché se nell'urbanistica mi si dice che si fanno curiosissimo, addirittura perché il programma agricoltura, individuare e perimetrare le zone produttive primarie utilizzate da destinare a colture specializzate, vigneti, olivedi e tortaggi, se non c'era cambiamenti a fare un convegno sull'Axilella in questo paese, non la perimetrazione, non ci sarebbe stato nemmeno uno che informava su cosa si poteva fare, c'è qui Crocifisso Aloisi che si è fatto portavoce di queste battaglie, altro che cose scritte soltanto sulla carta, realizzazione dei piani particolareggiati in zona Cappuccini, qualcuno li ha visti, realizzazione delle zone di comparto previste dai contratti di quartiere, peraltro erano già finanziate, il comparto 14 era già finanziato all'interno dell'accordo dei contratti di quartiere 2, riqualificazione sto chiudendo e purtroppo il tempo non è il nostro amico da questo punto di vista, io chiudo con due cose, poi dopo di chi andate a guardarvelo, doveva essere qualcuno a raccontarvelo, due suggerimenti per questi ultimi giorni di campagna elettorale, vigilanza democratica, quello che abbiamo sentito e che ha appena detto Flavio è gravissimo, in questo paese ci sono persone che vanno nelle abitazioni delle persone che hanno bisogno a comprare il voto, noi abbiamo fatto un appello perché venisse in questa piazza a dirci se aveva ragione chi dice che ha dato 80-50 euro a voto, mi fa schifo soltanto a dirlo oppure meno, non è stato raccolto questo suggerimento, secondo suggerimento per i più giovani, non abbiate paura del futuro, non abbiate paura di questa battaglia, state al nostro fianco, non vi sentite in colpa perché non avete un lavoro, il lavoro lo creiamo insieme, con il coraggio delle idee lo creiamo e un consiglio a chi invece ha un pochino più di anni come me, anche se non tantissimi, arriva un momento della vita in cui bisogna girarsi indietro per forza di cose e anche capire se quello che si è fatto corrispondeva al proprio pensiero, se si è sempre seguito una via in cui il proprio pensiero è stata la rotta principale. Bene, questo momento è arrivato, noi domani non dobbiamo girarci indietro con il rimpianto di non aver voluto il cambiamento, il cambiamento ce l'abbiamo, si chiama Flavio Filoni, si chiama Cambiamenti, si chiama come tutte le altre liste che lo sostengono. Buonasera a tutti, il primo appello lo devo rivolgere a Flavio, che ti hanno detto, Casivagnone gliel'hanno detto a qualcun altro nel corso qua abbastanza vicino, a Stefano Minerva di Galliponi, a quello di cui ti sono lamentato, l'abbiamo eletto sindaco e io ti auguro di essere sempre così Flavio e se sono qui oggi si lamentano che hai le relazioni istituzionali importanti, beh allora vagliela a dire, io qui oggi non sono solo come rappresentante di una bellissima istituzione come la regione, sono qui da militante che vuole stare accanto ai militanti, a quelli che credono che la politica sia bella, non perché si conta qualcosa nelle sedi di potere, ma è bella perché tu vai sempre a disposizione della gente e quando ti viene a trovare Flavio Filoni perché hanno bisogno di avere una risposta ad una domanda che il Comune magari non sente neppure, trovano Flavio Filoni pronto, che li accompagna, che li segue, che si prende cura di loro, questa è la politica, questa è la politica bella, questa è la politica che tutta la coalizione vuole fare accanto a te, la politica che studia, che fa le proposte, che cerca soprattutto non solo di fare le proposte, ma di mantenere gli impegni, quelli che ci ha detto Maurizio Finca che non sono stati mantenuti, perché la politica ha questo di bello, ha la possibilità di fare, di fare le cose che ci si ripromette di fare, ha la possibilità di guardare la gente in faccia e di riguardarla anche un'altra volta, perché si è stati sempre da una stessa parte, quella parte coerente che qualche volta ha potuto pure non vincere, come è successo la scorsa volta, però rimane ferma nelle proprie idee e non fa i trasversalismi di chi vuole sempre stare dalla parte che sembra vincente, di chi pensa che andandosi a presentare come quello che ha cambiato da una parte all'altra, che oggi dice di sì e domani dice che sta con quell'altro, lo dice soltanto per avere il voto dell'ultimo momento, il giorno dopo si è dimenticato del voto di chi gliel'ha dato e della sua città, non è questo il modo che noi abbiamo di vedere la politica, per noi la politica è una cosa seria e lo dico nei confronti di chi fa politica da quando era bambino e adesso la fa camminando a testa alta e chiedendo il voto a lui, ma allo stesso modo l'ha fatta appoggiando gli amici, appoggiando le persone nelle quali credeva, perché la politica è un gioco di squadra, è un gioco di squadra tra chi ci crede veramente e la politica è soprattutto fare le cose per la propria città, vedere come la città può cambiare, mi piace che questa coalizione si proponga così, che la nostra coalizione si proponga così, una città può cambiare perché può migliorare, ma veramente voi credete che andare a prendere un posto come consigliere provinciale significa poi dimenticarsi del proprio comune persino davvero per la fermata di Salento in bus, che è un progetto finanziato dalla regione per cui la provincia si spende e i consiglieri provinciali non si impegnano, ma di che cosa parliamo? E la fermata tanto è più importante perché quelli sono servizi minimi, sono servizi che devono raggiungere tutti i centri abitati della provincia di Lecce, tutti i centri più importanti, qui il collegamento marine e centri urbani è fondamentale perché quel servizio serve sia ai cittadini e sia ai turisti e come fai a fare i collegamenti se non passi da qua? Come fai a garantire veramente lo sviluppo della città di Galatone se tu non consenti il passaggio? Come fai a parlare di turismo? Io credo che ci sia davvero da costruire molto nell'ambito di questa città, parto dal turismo e dalla cultura, ho pochissimo tempo, quindi scusatemi se vado molto veloce, dal turismo e dalla cultura, il teatro, il Palazzo Marchesale sono beni straordinari, ma questi beni devono essere goduti da tutti i cittadini in maniera tale che ci sia una possibilità per tutti, anche di vedere un lavoro futuro, che ci sia possibilità di ospitalità in questa città sostenuta insieme con il distretto urbano del commercio per esempio che la regione ha stimolato, insieme ai centri che ci sono, ai negozi di vicinato, perché il commercio, l'artigianato e la cultura devono vivere di una sola cosa, insieme al turismo, perché chi viene a Galatone deve ricordare la bellezza dei monumenti, ma deve anche poter comprare, poter abitare, questo significa lavoro, diceva bene Maurizio lavoro, avere fiducia nel fatto che una città, vedete Italo Calvino diceva una cosa bellissima sulle città, diceva di una città non ricordi le 7 o 77 meraviglie, ma la risposta che ha saputo dare ai tuoi bisogni, cioè di una città non è importante soltanto che ci sia un teatro, che ci sia un palazzo, che ci sia un bene culturale, la cosa importante è che quel teatro, quel palazzo, quel bene culturale siano a disposizione di tutti i cittadini con attività animate ogni giorno, che danno la possibilità di avere anche una fruizione turistica che porta ricchezza nel Comune e Galatone con la possibilità di collegarsi alle marine, ma anche con il centro storico, la possibilità di vivere turismo 365 giorni all'anno, ma quanto invece ci si impegna per il turismo? O si bussa soltanto a denari agli altri enti? Allora avere relazioni, caro Flavio, significa soprattutto avere questo, avere progetti da realizzare, avere la possibilità di partecipare ai bandi con la consapevolezza che le cose si possono realizzare davvero, coinvolgendo la propria comunità e significa anche, e questo è una cosa importante, avere un progetto chiaro rispetto a ciò che è possibile e a ciò che non è possibile, investire sulla centrale è una cosa che questa città non tollera e non può tollerare, perché ci sono ambienti insalubri, non sono quelli i progetti che si devono portare avanti, ecco perché credo che ci sia molto da fare per Galatone, ma questo da fare richiede un entusiasmo e un'energia che voi state cercando di animare, state riuscendo ad animare con i cittadini casa a casa, perché ogni cittadino deve condividere il progetto, la partecipazione è questo, ma deve condividere il progetto, non lo scambio, le cose che sento dire sono assurde, parlare di progetto significa fermarsi con la persona e mettere la propria credibilità di chi crede nella coalizione e si presenta coerente ogni volta che si candida, non che una volta sta da una parte e una volta sta dall'altra e quindi quando chiede il voto lo chiede per convenienza sua, non per convenienza della città, ecco dicono la cosa che diceva prima Flavio mi sembra molto importante, lui ha detto noi non abbiamo interessi, però poi ci ha fatto comprendere con una virgola più chiaramente quello che voleva dire, noi non abbiamo interessi personali, perché i nostri interessi sono quelli di ogni cittadino di Galatone e questo si deve fare in politica, ogni cittadino di Galatone che però si unisce nella prospettiva alle altre realtà, questa cosa di fare rete, ho citato Stefano Minerva apposta all'inizio, è una cosa importantissima, fare rete con gli altri comuni, oggi serve, stiamo lavorando ad un bando, abbiamo coinvolto tutte le amministrazioni comunali, ad un bando per esempio per i beni culturali, oggi non è più possibile lavorare da soli come comuni, chi si chiude nel suo perimetro, chi si chiude nella sua solitudine non va da nessuna parte, bisogna attivare reti e fare progetti comuni, unire le marine all'entroterra, con la Regione stiamo finanziando esattamente queste, le attività che si fanno insieme, allora alla vista corta, chi lamenta che tu hai relazioni, avere relazioni oggi significa avere la possibilità di soddisfare i bisogni dei cittadini, significa dare prospettiva di lavoro e io questo vi auguro, in questo minuto che mi rimane, vi auguro ai cittadini galatonesi di avere sempre l'orgoglio delle proprie tradizioni, della propria capacità di comunicare con gli altri, della propria cucina, delle proprie identità, ma avere nello stesso tempo la gioia di guardare avanti e di sentirsi parte di un Salento che in questo momento è straordinario, che sta ottenendo il risultato più del 16% col turismo, pensate, e avere un progetto, caro Flavio e cari tutti delle liste, che guarda avanti e punta ad un cambiamento che significa innanzitutto cambiamento culturale, cambiamento di stile di fare politica, cambiamento perché ci vuole una capacità di tenersi per mano nel momento in cui si fa un progetto, tenersi per mano con ogni cittadino, anche con il più debole, anche con quelli che appaiono gli ultimi, perché come dice sempre Michele Emiliano, quando si arriva a tenere una posizione di potere, il primo di cui ti devi ricordare è quello che ha avuto più difficoltà, perché con gli altri possono andare avanti anche da soli, ma quelli che hanno avuto più difficoltà sono i tuoi migliori concittadini, quelli con cui ti devi abbracciare perché devi fare un progetto comune. Io questo auguro a Galatone, guardate, questa coalizione vi dà la possibilità più bella in questo momento di cambiare per essere più forti, perché Galatone rispecchi la sua cultura, perché Galatone possa diventare veramente il centro del Salento così com'è, insieme agli altri, insieme alla regione, insieme al governo per dare una chance nuova ai giovani di questa città e a tutti coloro che credono che con il proprio merito, con il proprio sacrificio, rimboccandosi le maniche come ha fatto questo candidato sindaco da quando è nato, rimboccandosi le maniche e si ottengono i risultati, perché non c'è cosa più bella di quella di poter dire ce l'ho fatta con il sacrificio mio e con il sacrificio di tutti perché ci abbiamo creduto, perché la politica è questo e fede di potercela fare. Auguri a tutti, in bocca al lupo, mi raccomando, andiamo a vincere con il sorriso, come dite voi!